Presidente, una grandissima vittoria della Sampdoria, insomma, se il Napoli era una Ferrari, stasera è stata la Ferrari e sta la Sampdoria. No, albista ha detto che avevamo uno scooter, però io del nascosto gliel'ho modificato così abbiamo superato la Ferrari. Mi dici se per caso ha già sentito il presidente De Laurenti, perché era un po' anche il derby del cinema, del film. Ha vinto lei? No, 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 non ho sentito Aurelio, non lo sento da tanto tempo. Però sono molto contento di avergli dato un dispiacere calcistico, perché questa vittoria loro sono veramente un'atterrata, ma noi abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti e non sono contento. Godo, caro Aurelio, godo. Cos'è cambiato in questa settimana da Udine a oggi? La squadra è completamente rinvigorita? Si saranno presi una spirina. Che vuol dire rinvigorita? Decisamente più presente a se stessa, anche con i cambi, Saponara, Super, che non riesce a essere poi un nuovo cambiato. Beh, ma io penso che su quattro anni faccio calcio non capisco niente di calcio, però sono un attento spettatore. Le prime partite non vanno mai giudicate, voglio dire, se puoi, ce ne stanno 38, la corsa è lunga e noi dobbiamo soltanto essere sempre in gara. Presidente, con l'abbraccio con Mihailovic? Perché amo Mihailovic, siamo amici, è stato il mio primo grande amore, adesso mi dispiace, l'ho tradito con il grande Giampalo. L'ha visto? E' un professore, eh, tic e tac, tic e tac, che ha messo nel posticino d'amore ci sarà. Però non tradirà più nessuno adesso? Eh? Non tradirà più nessuno, hai imparato la lezione? Non tradisco? Ha tradito Gian Mihailovic, non tradirà più Gian Paolo. Sono un fedigrafo. Presidente, l'aggettivo per il gol di Quagliarena. Ma non c'è l'aggettivo, quelle sono cose che solo un campione come Fabio può fare, che dice, a lucida si è arrabbiato perché l'ha sfottuto un po', gli ho detto le sei riparte, ah, io so, fortissimo, ho detto ciò lo so, non ti arrabbiare. Presidente, si è sbloccato anche questo De Frel, un commento su questo giocatore? De Frel non è stato mai bloccato, De Frel è un grande calciatore, io lo amo, lo inseguo da, pensate, dal Parma, dall'inizio della mia storia calcistica che seguo De Frel, ho fatto una scommessa che De Frel ci farà proprio divertire perché fa 15 costa, no? Presidente, come ha visto Domenico? Fortissimo, è una sorpresa, bravo, bravo Domenico, come ci fa lo sbattato io, è calciatore vero, perché come ci fa lo sbattato io, è calciatore vero, perché come ci fa lo sbattato di soldi, io d'unica sull'unico vendito io, ah, è finito? Altre domande? Ciao che godo, ciao Aurelio, ciao!